Continuano le segnalazioni per il cancello centrale del cimitero di Fano. Questa mattina un cittadino ci ha contattato in quanto lui e sua moglie sono stati vittima di un episodio singolare. Nei giorni scorsi, da come ci racconta i nostri microfoni, sono rimasti chiusi all'interno. Siamo rimasti chiusi dentro perché il cancello non funzionava. Che ne dica la questione qua che se uno lo spinge, io non l'ho spinto, non l'ho toccato, però il pulsante non funzionava, il cancello era chiuso e io sono rimasto dentro. Dopodiché è venuto il pulsante, con la sua chiavetta ha aperto il cancello. Se non veniva il custode ancora eri io dentro. Il signore di origine sicula è solito arrecarsi al cimitero di Fano in quanto spesso viene a trovare la tomba dei familiari. Secondo quanto ci ha riportato avrebbe premuto il pulsante rosso di emergenza una volta accorto che l'ingresso del cancello del cimitero era già stato chiuso. Il cancello centrale, così come quello posto sul retro, sono muniti entrambi di sistemi elettronici di apertura e chiusura negli orari prestabiliti. Inoltre il comune ha predisposto anche un cartello informativo per coloro che accedono alla zona invitando a non toccare il cancello nelle fasi di movimento al fine di evitare il blocco del motore. Poi mi domando, è possibile che non c'è un segnale acustico che avvisi magari la povera vecchietta che sta pregando in fondo come fa a capire che sono le sette e il cancello chiude e poi rimane dentro, poverina magari. Credo che un pulsante elettrico di avviso ci dovrebbe essere. Un po' di organizzazione comunque non guasta, non guasta mai un po' di organizzazione. Se facciamo le cose alla paesana succede quello che succede.